Sarà un teramo rimaneggiato quello che giocherà domani al Barbera di Palermo nell'insolito orario delle 12.30. Lunga la lista degli indisponibili, ai lungo De Gentilasic, Minelli e Valentini si sono aggiunti infatti Celentano e Di Matteo, oltre agli squalificati Arrigoni di Etichè. 18 i giocatori convocati da Massimo Paci, aggregato dalla Primavera 3 il giovane difensore Romanucci classe 2002, così il tecnico Biancorosso Paci alla vigilia del match. Domani inizia questo nuovo girone, siamo fortemente motivati dall'aggiustare le cose, dal mettere a posto le cose, anche in una partita difficile ma cambia poco. La nostra grande motivazione sta nel voler aggiustare le cose e ritornare ai risultati che c'erano una volta. Il Palermo è una squadra forte sulla carta, hanno meno punti di noi ma questo non significa niente perché in questo momento credo che siano altre le cose che facciano la differenza. È una squadra difficile da incontrare nel loro campo, visto la partita con il Francavilla e meritavano ampiamente di vincere, poi hanno perso la partita ma hanno avuto almeno 10 occasioni per fare gol. In chiave tecnica loro porteranno molta pressione e quindi concederanno campo alle loro spalle, dovremmo essere bravi nelle ripartenze, a sfruttare quegli spazi che inevitabilmente si creeranno. E poi una partita di attenzione perché la loro fase offensiva è una fase importante e quindi dovremmo essere attenti, avere le linee strette, essere compatti, fare una partita di grande ferocia difensiva e di concretezza per quanto riguarda l'attacco. Capitolo formazione. Quasi obbligate le scelte del tecnico biancorosso che ripropone Costa Ferrera come terzino destro. Gioca Mungo a centrocampo e in avanti Pinzauti è preferito a Gerbi. Questo comunque l'undici che dovrebbe scendere in campo a Palermo. Lewandowski in porta, a presidio Costa Ferrera, soprano Piacentini e Tentardini, davanti la difesa Santoro e Viero. Ilari, Bombaggi e Mungo alle spalle di Pinzauti. In casa a Palermo, dubbio Ger per il tecnico Boscaglia. Al suo posto si candida Broth nel 4-3-3. Disegnato in attacco dovrebbe esserci spazio per Saraniti, ma occhio al testa a testa con Lucca. Valente certo di una maglia da titolare sulla sinistra. In difesa non si cambia. Accardi, Somma, Lancini e Crivello davanti al portiere Pelagotti.